Dalla centona di Bartoglio, il desiderio. Tutto dipende dalla circostanza che ci amatta la donna interessante. Mentre io ho un desiderio di una pedanza come se fosse Fungi, io fallo, io fanno. Oppure mentre si tocca la panza, mentre guarda un pezzo di ignorante, c'è un figlio di manescanza che io cerco vita naturale durante. Per cui il desiderio di una donna in gravedanza, mi spiego, è l'occhio della simpatia. Giusto, la spiego è facile abbastanza. Mentre una che è incinta, io vado a dire. S'impressione, io parlo con le donne che sbroccano uno scecco di vantelleria. Bene.